un po' le mani in seguito domani il seguito, ora finisce che si sente male a Lorenzo e io adesso voglio un riso white, riso bianco, allora for me rice white, no pepper, no salt, no pepper, no salt, uè, 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 uè. Scusate, signor, they mean basmatic steel rice, ok? Ok. Ehi, ehi, come siete provinciali, non sapete proprio viaggiare, fate come Alberto che ha preso un fantastico riso birianico o peperone. E ciao a tutti, ragazzi. Allora, sto birianico e peperone, la fine del mondo. Sì, però stanotte ti fai i botti del capodanno e tu, Simonetta, ti devi mettere i tappi qui e la moletta qua, hai capito? Ecco qua. Io, invece, se io la faccio, mi prendo un bel riso bianco, perché almeno il mio stomaco rimane bellorissimo, bellorissimo, rimane pulito come un... Un gilumbo. Come un... Un fischietto. Un fischietto! Non è sempre messo il riso. Eh, perché che deve essere il riso, così, eh? Pepino, state buono, state fermo, Pepino. La terra non te muove, non te muove. Sono maniata la mosca. Ma che succede? Un dolore, un dolore pazzesco, delle fitte alla pancia, che male, che male. Un dolore, non ce la faccio, non ce la faccio. Ma come? Ma hai mangiato riso all'inglese ieri sera? Ho mangiato riso all'inglese. Probabilmente è stato pulito con l'acqua sbagliata. E ma è un virus! Oddio, senti. Oddio, ma c'è un po' di disenteria. Adesso vedrai che vai in bagno e ti senti meglio, no? Dove la faccio? E vai, dai. E poi la corrigione. Oddio. Oddio. Passare. No, 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 no. Vai, 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 non vuoi. Qui? Non vuoi qui. Resisti. la tazza non esiste più si è disintegrata c'è rimasto in bagno alla turca se vuoi approfittare ma che ti sei mangiato? hai mangiato un po' di derba, n'è levante? riso all'inglese anche io ho mangiato riso all'inglese però era bollito con quella qua ma tu non ci mi sa spruzzatini vuole che la spargo? tu pensa alberto che sei mangiato bolla con peperoni? forse in te non entrerei lì dentro un luogo io occupato mi sto scultando un po' sempre occupato come entra? non è possibile ti dà acqua, bene ma cagherà e che voglio fare? ma non sta bene comiamo ne ho ecco oddio come dai oddio oddio va cric web pie f roba hot e gotta